Gli agenti della Polizia di Stato di Salerno hanno arrestato per tentata rapina, nonché per resistenza e violenza pubblico ufficiale, un giovane nordafricano trentenne senza fissa dimora, destinatario di un provvedimento di rifiuto di protezione internazionale. Il trentenne la scorsa notte ha provato a rapinare due persone che avevano appena parcheggiato la propria auto, aggredendo anche gli agenti della Polizia di Stato giunti sul posto. L'autore del reato, privo di documenti di identità, è stato sottoposto a rilievi foto segnaletici da parte del personale della Polizia scientifica e dopo le formalità di rito è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha disposto il trasferimento presso il carcere di Salerno Forni in attesa del giudizio di convalida.